bentornati su daynote oggi voglio proporre un video per quanto riguarda le regole presenti nel codex space marine 2020 dato che però il codex è veramente ricco di regole ho deciso di creare diversi video ciascuno con un focus su un determinato set di regole potete consultare tutti questi video andando in descrizione e c'è la playlist con tutte le regole a riguardo e ora possiamo cominciare ad andare a vedere le regole per quanto riguarda gli stratagemmi e vi ricordo che potete usare questi stratagemmi se nella vostra armata includete un qualsiasi distaccamento con la keyword adeptus astartes e un'altra cosa da considerare per quanto riguarda gli stratagemmi oltre alla descrizione per quanto riguarda adeptus astartes necron che quindi dipende dall'armata che li sta usando abbiamo anche la distinzione di pato tattic e ptd e altre questo normalmente non vi interessa perché non fanno nessuna differenza ma ci sono situazioni in cui diventa importante perché ci sono modelli magari generali o altro in cui c'è magari la regola vi permette di avere gratis un utilizzo oppure un decremento di un certo tipo di stratagemmi quindi tenete in considerazione in quei casi perché è importante ricordarsi che sono dei bonus che avete per quel tipo specifico di stratagemmi quindi è da ricordare questa specifica il primo stratagemmi che possiamo vedere è morte ai traditori che per un command point permette di usare questo stratagemmi nella fase di combattimento e quando un'unità con la keyword adeptus astartes della propria armata è selezionata per combattere fino alla fine di quella fase ogni qualvolta un modello di unità compie un attacco contro un'unità eretica astartes come keyword si può ritirare il tiro per colpire questo è ottimo per avere praticamente delle unità che vadano ad avere dei bonus e in questo caso conto però una specifica armata avversaria contro chi abbia eretica astartes quindi limitata però comunque non male e poi abbiamo onorare il capitolo che per due command point permette di usare questo stratagemmi alla fine della fase di combattimento e selezionare un'unità con la keyword assalt intercessos code della propria armata e finché questa è nel raggio di ingaggio di un'unità nemica questa può combattere di nuovo e pensate di combinare questa con lo stratagemmi che abbiamo visto prima diventa molto interessante ovviamente però dovete tener conto che è riferito solo a unità che abbiano la keyword assalt intercessos code quindi molto limitata nell'utilizzo ecco che abbiamo furia dei primi che è uno dei miei stratagemmi preferiti per un command point si può scegliere di utilizzare questo stratagemmi o nella fase di tiro o nella fase combattimento e dura fino alla fine della fase selezionata e permette di aggiungere uno al tiro per colpire degli attacchi effettuati in quella fase per i modelli che abbiano la keyword terminator ecco che questo diventa molto interessante perché dobbiamo ricordare che terminator da tiro hanno il lancio messi ciclone e quindi possono muovere e sparare senza penalità quindi molto interessante questo diciamo che è uno stratagemmi che se intendete usare i terminator è da ricordarsi di avere per poterlo usare nel momento corretto e poi abbiamo transhuman physiology che è stato modificato rispetto al passato funziona ancora che in ogni fase può essere attivato ma funziona solo con unità di keyword primaris e fino alla fine di quella fase ogni qualvolta un attacco è fatto contro l'unità su cui si è attivato questo stratagemmi gli attacchi in questione falliscono con un tiro non modificato da 1 a 3 quindi praticamente 50 per cento dei dati a prescindere da questa sensibilità che possa avere l'arma o il portatore che compie quell'attacco da notare che se l'unità è composta da cinque o meno modelli questa stratagemma costituirà un costo di un command point altrimenti due command point rimane comunque uno dei migliori stratagemmi datene in considerazione perché veramente può salvare in quella fase in quel turno quell'unità che siete andati a utilizzare questo stratagemma sopra e poi abbiamo fuoco rapido che costa due command point ora riguarda le squadre con intercessos squad e veteran intercessos squad come keyword e va applicata alla fine della fase di tiro prima permetteva di raddoppiare il tiro però adesso permette di sparare una seconda volta quindi cambia notevolmente perché ora vuol dire che potete equipaggiare unità di intercessos squad con armi differenti e poi farla sparare due volte con quell'arma anche se l'avete già usata questo vuol dire non poco anche perché vuol dire che potete sparare di nuovo vi permette di farlo non con armi specifiche ma anche con le armi speciali che eventualmente potete aver dato a quell'unità quindi diventa molto interessante in questo senso quindi sicuramente dati nel considerazione come stratagemma perché può essere molto strategico e poi abbiamo gem rotmite che per un command point permette di usare questo stratagemma nella fase combattimento quando una delle proprie unità con la keyword primaris solo primaris combatte ecco che ogni modello di quell'unità quando combatte se uno dei suoi attacchi effettua un tiro non modificato di 6 sul tiro per colpire ecco che ferirà automaticamente il bersaglio questo diventa molto interessante perché i vasti primaris e anche l'intercesso tendono a fare parecchi attacchi il che vuol dire che amplificando ulteriormente anche gli attacchi di esposizione sarà più facile portare magari con questo stratagemma a ferire automaticamente il bersaglio senza avere problemi di dover cercare magari di tirare anche per ferire quindi sicuramente interessante e poi abbiamo anildi in the face of the foe che permette per un command point di utilizzare questo stratagemma in una qualsiasi fase quindi potete scendere quando su un'unità con la keyword mkxgravis ecco che permette qualora questa unità appunto venga selezionato come bersaglio fino alla fine di quella fase ogni qualvolta un attacco con valori caratteristiche di danno pari a 1 è allocato sul modello di qualità di aggiunge 1 ai tiri salvezza per quell'unità ecco che diventa molto importante perché vuol dire che dato che le armature mx10 gravis hanno un tiro salvezza di 3 di solito possono andare praticamente a 2 contro questo tipo di ferite che vuol dire praticamente come annullare il valore di penetrazione pari a 1 e anche quelli migliori comunque permette di essere migliorato la possibilità di salvare quindi diventa molto interessante ovviamente è limitato ad armi che hanno danno pari a 1 ma comunque vuol dire tanto perché dà un'opzione di salvare in aggiunta quindi sicuramente dati nelle considerazioni anche se limitato al tipo di armature per cui funziona e poi abbiamo solo con la morte il dovere termina che per due punti di comando permette di usare questo attagemma nella fase combattimento su un personaggio adeptus astartest era proprio amato ovviamente che sia in combattimento ma sia stato distrutto prima di poter combattere ecco che non si rimuove quel modello da gioco si finisce il giro di tutti gli attacchi da tutti i modelli che sono coinvolti e poi lo si fa attaccare per dopo essere rimosso che vuol dire che se avete un personaggio che deve morire male comunque lo si può far attaccare oppure se volete sacrificare un personaggio perché comunque vi serve che porti magari il maglio potenziato un'altra arma che abbia danni da fare ecco che permette di sfruttare la cosa quindi fare in modo che anche se muore voi potete fare quello per cui l'avevate mandato in combattimento quindi è molto interessante in questo senso e poi abbiamo armor of content che per un command point permette di usare questo stratagemma in qualsiasi fase qualora voi abbiate un modello veicolo degli adeptus astartest che subiscono la ferita da ferita mortale voi utilizzate questo stratagemma e quel veicolo fino alla fine della fase potrà sparare le ferite da ferite mortali al 5 più quindi è molto utile per veicoli quali quelli che vengono dai capitoli dell'iron hands o altro per preservare ferite che altrimenti potrebbero subire da ferite mortali quindi può essere interessante e poi abbiamo il potere dello spirito macchina che per due punti comando permette di selezionare un modello con le keyboard adeptus astartest machine spirit e questo va fatto nella fase comando e fino all'inizio della propria successiva fase comando quel modello è considerato avere il numero massimo di ferite per tutti i propositi determinare quante ferite abbia per il profilo quando compie azioni il che può essere molto interessante se voi avete veicoli appunto come repulse o land raider che appunto man mano che vengono dangiati perdono potenza di combattimento e anche di tiro ecco che diventa molto interessante perché vi permette di avere che quel modello può sparare al massimo diventa molto interessante perché appunto non perde potenza di tiro quindi è principalmente per la fase di tiro però è estremamente utile a livello strategico ovviamente se si gioca un iron hands diventa meno utile però questo vi ricordo permette di avere come considerare piene ferite il che non è male e poi abbiamo wisdom of the ancient che per un command point vi permette di selezionare questo strategema nella fase di comando selezionare quindi un modello dreadnought dell'adeptus a status che non sia però un wolfen o un death company come dreadnought e fino all'inizio della propria successiva fase comando questo può guadagnare o l'abilità ad aura quindi a raggio di 6 pollici del capitano quindi ritirare i tiri per colpire pari 1 o quella del logotenente quindi ripete i tiri per ferire pari 1 o una o l'altra ma è anche vero che questo vuol dire poter guadagnare improvvisamente l'abilità di uno di questi modelli qui che non è male perché vuol dire che anche se non è nelle vicinanze voi beneficiate di questi effetti e dovete tenere in considerazione anche che ci sono le limitazioni dovute al distaccamento quindi sulla quantità di capitani e luogotenenti che si possono usare quindi questa strategema diventa molto importante per magari non scrivere neanche uno e averli oppure avere in posizione magari mentre vi serve da un'altra parte quindi avete un modello che può ricomplire un'ulteriore funzione e tra l'altro scegliendo quale preferite quindi molto interessante e poi abbiamo commanding oratory che per due command point vi permette di usare questo strategema all'inizio di una qualsiasi fase che non sia quella di comando e selezionare un adeptus astartes chaplain della propria armata che non abbia già recitato una litania in questo turno quel modello può recitare una litania che non sia già stata recitata da un modello amico in quel turno la litania è recitata in modo automatico quindi non si tira e ha funzione fino all'inizio della propria successiva fase comando quindi molto interessante ed estremamente utile perché vuol dire che se si vuole far andare per certo una litania con questo si fa andare e non ci sono versi va quindi sicuramente molto interessante anche a livello strategico che vi permette pur costando parecchio di farla partire ed essere sicuri che parta senza alcun problema e poi abbiamo combattere varie che per un command point vi permette di usare questo strategema alla fine della fase movimento su un apotecario della propria armata e selezionare un'unità di fanteria o bikeers che sia entro tre pollici dal l'apotecario stesso e non sia a massima dimensione dell'unità che aveva quando l'avete acquistata ecco che si può far ritornare a quell'unità un modello di quelli che è stato distrutto con tutte le ferite rimanenti il che vuol dire che mentre prima bisognava prima curare il modello dell'unità e poi provare a farne tornare un altro ora si fa tornare automaticamente un modello a ferite piene anche se sia un modello danneggiato quindi è proprio un modello che torna di quelli che era morto veramente ottimo anche perché non dovete tirare dadi è una sola volta per turno per tutta l'armata che avete però non è male perché vuol dire recuperare direttamente quel modello quindi veramente ottimo come stratagemma e poi abbiamo uno stratagemma molto importante che è il reliquio del capitolo che per un command point vi permette di usare questo stratagemma prima della battaglia quando si sta creando la propria armata e se proprio generale è con la keyword adeptus astartes si può selezionare un modello ovviamente personaggio adeptus astartes e si può dare una reliquia del capitolo ecco che questa reliquia ovviamente deve poter essere data cioè deve poter il personaggio prenderla bisogna ricordare che non si possono avere due reliquie uguali e che lo stesso modello stesso personaggio non può avere due reliquie e questo stratagemma può essere usato una sola volta a meno che non si stia giocando con la strike force quindi da 2000 punti in quel caso si possa usare questo stratagemma due volte o nel caso si stia giocando una on slot quindi più di 2000 punti si può usare tre volte quindi patente si può arrivare ad avere in apertura ormai da 2000 punti tre artefatti uno che è quello di base e due pagati con questo stratagemma a un punto comando l'uno quindi diventa molto interessante per poter personalizzare l'armata e dare dei bonus ai propri modelli e anche eventualmente agli unità circostanti quindi sicuramente da tenere in considerazione perché è estremamente utile estremamente importante e poi abbiamo eroe del capitolo che per un punto comando permette prima della battaglia quando si sta creando la premata se il generale che si sceglie è quella keyword adeptus astartes di scegliere un personaggio charater adeptus astartes e assegnarli un tratto generale da ricordare che i tratti generali di cui si parla non possono essere ripetuti quindi non si possono dare più di una volta lo stesso e non si può dare a un modello due tratti del generale ma questo diventa interessante perché pur non diventando il tratto generale quindi warlord per quelle che sono le sue funzionalità diventa comunque warlord ai fini del tratto generale quindi in questo senso interessante in aggiunta è interessante perché si possono dare due volte questo stratagemma da 1.1 a 2.000 punti quindi nella strike force e 3 addirittura in quella oltre 2.000 punti il che vuol dire che si possono avere tre modelli in campo che hanno tratti generale anche se effettivamente uno solo sarà il generale effettivo questo diventa molto interessante qualora si abbiano molti tratti generale tra cui scegliere e siano decisi e si vuole provarli perché effettivamente è un modo per portarli in campo e questo diventa soprattutto utile con quelli che sono i modelli del comando perché loro hanno dei tratti in generale specifici che se utilizzati diventa molto interessante perché appunto permette di valorizzare ancora più quel modello quindi sicuramente uno stratagemma che va tenuto in considerazione e valorizzato perché può dare molta personalizzazione alla propria armata e poi abbiamo qualcosa che può far ricordare di quelli che sono gli ultramarini infatti abbiamo i taran warfare che per un command point permette che nella fase di movimento si può usare questo stratagemma su un'unità di adeptus astartes biker o land speeder or stone speeder e se questa unità della propria armata fa una ritirata ecco che questa unità è comunque ancora elegibile di sparare nel turno in cui ha fatto questa ritirata quindi è molto interessante limitata se volete al tipo di unità che possono avere accesso però molto interessante perché permette appunto di fare ritirata e sparare e quindi può essere estremamente utile e poi abbiamo armor of rough che per un command point permette di usare questo stratagemma nella fase di carica quando un'unità adeptus astartes con jump pack come keyword della propria armata finisce un movimento di carica e si seleziona un'unità che sia entro la distanza di ingaggio di quell'unità con jump pack e si tira un di sei per ciascun modello di quell'unità jump pack che è entro il raggio di ingaggio dell'unità nemica ecco che per ciascun dado il cui risultato sia uguale o superi il valore di resistenza dell'unità nemica questa soffre una ferita mortale può diventare molto interessante se si portano o parecchi modelli o se l'unità avversaria ha una resistenza piuttosto bassa comunque permette di aggiungere danni prima di arrivare a combattere quindi può essere molto interessante ovviamente dipende molto da diversi fattori quanti modelli riuscite a portare quanta è l'essenza dell'avversario quindi e dopo dei tiri dagli ovviamente però può essere molto utile come stata gemma in determinate opzioni quindi da tenere in considerazione e poi abbiamo scelta riders che per un command point permette usare questo stratagemma nella fase di tiro dell'avversario quando un'unità di adettus a start at bites nel speed o stone speed e bersagliata ma questa unità che appunto va a beneficiare di questo stratagemma deve aver fatto un momento di avanzata ovviamente nel proprio turno che vuol dire che induce molto diciamo le opzioni per cui questo diventa disponibile è anche vero che fare ciò utilizzare questo stratagemma vuol dire che fino alla fine della fase ogni qualvolta un attacco è fatto contro con unità si sottrae uno al tiro per colpire e questo non è male perché vuol dire che l'unità sono più facilmente disponibile magari ad andare a prendere un obiettivo andasse esporre in qualche maniera o comunque a resistere ad attacchi da parte del nemico il che non è affatto male se c'è andata a bersare perché ridurre la quantità peggiorando il tiro per colpire di colpi che si possono subire è anche un modo per far sopravvivere meglio l'unità quindi è molto limitata ma può essere anche estremamente utile divente molto dalla situazione in questo senso per utilizzare questo stratagemma e poi abbiamo un compromising firekeeper 2 command point permette di usare questo stratagemma nella propria fase di tiro selezionando un'unità di ateptus astartes infanteria della propria armata che stia compiendo un'azione voglio ricordare che potete trovare in descrizione la playlist con tutte le regole per una redizione e che le azioni permettono di non fare assolutamente null'altro che movimento prima di compiere l'azione stessa quindi se si prova a sparare normalmente si perderebbe l'azione quindi non si potrebbe fare ecco che con questo stratagemma l'unità può sparare in quella fase anche se ha compiuto un'azione quindi senza che questa azione fallisca diventa molto importante perché vuol dire che quell'unità non può non star lì e non fare assolutamente nulla ma può comunque collaborare quindi diventa estremamente interessante perché almeno un'unità che compie l'azione può comunque agire sparando quindi molto molto utile come stratagemma e poi abbiamo steady advance che per due punti comando permette di usare questo stratagemma nella propria fase di movimento quando un'unità di ateptus astartes infantry muove se fa un movimento di tipo normale ecco che fino alla fine del turno quest'unità è costata essere rimasta stazionaria potete chiedere ma qual è l'utilità di una cosa simile pensate unità di aggresso che se considerate rimasta stazionare sparo due volte oppure pensate a unità come quelle dell'intercesso o comunque armi del genere che possono fare cosa possono usare la bolt discipline quindi per esempio le armi a raffica anche se si è mosso sparano comunque come se si è rimasti fermi o anche le armi pesanti non subiscono la penalità quindi diventa molto interessante utile come stratagemma sicuramente da ricordare di averlo e poi abbiamo strategia adattiva che per due punti comando permette usare questo stratagemma nella propria fase di comando se un generale della propria armata è sul campo di battaglia e una disciplina da combattimento è attiva non importa quale di queste sia ecco che se seleziona un'unità core della propria armata che sia sul campo di battaglia e fino all'inizio della propria successiva fase comando ogni qualvolto modello in quell'unità fa un attacco la dottrina devastatrice la dottrina tattica e la dottrina d'assalto sono attive per quell'attacco nello stesso momento il che vuol dire che è perfetta per l'unità di terminator ma pensateci è perfetta per determinati obiettivi secondari come quelli che sono presenti per gli spese marine che permettono di fare determinati punti solo quando attiva una determinata disciplina con questo modo permette di avere tutte e tre le discipline attive nello stesso momento per unità ma diventa molto interessante perché permette di sfruttarla anche quando magari quella disciplina o meglio quella dottrina non sarebbe disponibile perché non è attiva in quel momento quindi veramente molto molto interessante e poi abbiamo focus questa pressione che per un punto comando permette di scegliere nella fase di tiro un will wind della prepermata che sta sparando ed ecco che fino alla fine della fase ogni qualvolta quel modello fa un attacco con una armata di tipo blast che vuol dire una delle due principali che ha perché hanno entrambi blast se il colpo entra almeno uno dei colpi che effetto entra di queste blast ecco che fino all'inizio del proprio turno successivo l'avversario che o meglio l'unità su cui si è sparata non può sparare con overwatch o posizionarsi per difendere inoltre non può essere selezionato per combattere finché tutte le unità elegibili nella propria armata lo hanno fatto quindi a attaccare per ultimi però vuol dire che è sia nel proprio turno che nel turno successivo dell'avversario finché non torna proprio turno è veramente eccezionale come cosa dovete schiarare un will wind ma ne vale la pena e poi abbiamo terror troops che per due punti comando permette usare questo statagemma nella propria fase comando e selezionare un'unità con la keyword river e quest'unità guadagna le regole terror troops ad aura che è nettamente migliorata rispetto a prima tant'è che permette fino all'inizio della propria successiva fase comando quando un'unità nemica e entro tre pollici da quest'unità di farle perdere la regola obiettivo sicuro e qualsiasi altra regola simile che le permette di controllare l'obiettivo a riuscita dal numero di modelli che sono in raggio da quell'obiettivo sicuro veramente ottima perché permette di controllare anche perché funziona sia nel proprio turno che nel turno nemico quindi serve particolarmente se si riesce a fare in modo da avere un'unità propria con obiettivo sicuro si fa perdere all'avversario quelle quindi si prende controllo dell'obiettivo diventa veramente ottima a livello strategico questo statagemma in più fino alla fine del turno ogni qualvolta un'unità con la keyword river finisce un movimento di tipo normale avanzata o carica entro tre pollici da un'unità nemica che sta performando un'azione si tirano due dadi da 6 e se totale eccede il valore di disciplina dell'unità nemica ecco che l'azione è interrotta e fallisce immediatamente ok non è semplice perché da me di solito è tra 7 e 9 come disciplina però vuol dire anche riuscire a fare soltanto perché ci sia avvicinati sia nei dintorni fallire un'azione quindi anche far fallire magari un obiettivo secondario come realizzazione è veramente ottimo per la combinazione di opzioni che da veramente interessante e poi abbiamo guerriglia tattica che per un punto comando permette di usare questo statagemma nella propria fase di movimento quando un'unità con la keyword fobos della propria armata si trova più di sepolci da qualsiasi modello nemico ed è selezionata per muoversi ecco che se quella missione permette di utilizzare le riserve strategiche come regole quell'unità può essere posizionata nelle riserve strategiche quindi vuol dire che può essere praticamente rischierata il turno successivo è ottimo a livello strategico per obiettivi o quant'altro veramente a livello strategico un qualcosa a tenere in considerazione se si giocano le fobos e poi abbiamo bombardamento orbitale che costa ancora tre punti comando ma è cambiato nel funzionamento rispetto a prima infatti ora può essere usato nella fase comando se un adeptus status warlord della propria armata è su cambio di battaglia si seleziona quindi un punto sul capo di battaglia e si posiziona un segnalino in quel punto all'inizio della successiva propria fase comando quindi non il turno in cui si posiziona ma quello dopo quindi l'avversario può anche spostarsi da lì si tira un di sei per ciascuna unità che sia entro sei pollici dal centro di questo segnalino aggiungendo uno se l'unità per cui si sta tirando è entro tre pollici del segnalino e sottotendo uno se l'unità in questione è un personaggio ovviamente se il personaggio è entro i tre pollici rimane invariato il tiro questo diventa molto importante perché sì l'avversario se ne può andare ma è anche vero che può essere posizionato strategicamente e ricordate che da due a cinque di quel di sei l'unità nemica soffre di tre ferite mortali al se o più quell'unità soffre di sei ferite mortali ovviamente come sempre può essere usato solo una volta e dopo che sia usato il bombardamento orbitale come segnalino viene rimosso però rimane veramente molto interessante a livello strategico perché si può posizionare o per costringere i modelli nemici dell'avversario a spostarsi da un punto o anche per andare a bersagliare magari perché si vuole liberare un obiettivo che quindi dovrà essere conquistato e l'avversario deve tenere un modello lì quindi può essere molto utile a livello strategico quindi sfruttarlo in modo adeguato riconoscendo che va usato nel turno successivo quindi bisogna stare molto attenti alle tempistiche però è molto utile e molto interessante quindi da tenere in considerazione e poi abbiamo auspex can che per due punti di comando permette usare questo stato gemma alla fine degli arrivi dalla riserva per quanto riguarda la fase di movimento del nemico quindi selezionare un'unità di adeptus astartes infanteria come unità della propria armata che non sia nella zona di ingaggio da parte di qualcuna unità nemica l'unità può quindi sparare come se fosse la propria fase di tiro ma i modelli di quest'unità possono bersagliare solo una singola unità disponibile che sia stata portata come schieramento per i rinforzi questo turno e che sia entro 12 pollici dall'unità in questione quindi ha molte limitazioni perché si deve avere l'unità di infanteria e si deve avere un'unità nemica che sia stata schierata entro 12 pollici da quest'unità però è anche vero che è un'opzione per fare danni quindi è comunque interessante ed ecco che abbiamo poi tre mosces che per un command point bersaglia come stata gemma nella propria fase di tiro un cannone thunderfire che subirà ogni qualvolta venga utilizzato una penalità di uno al tiro per ferire ma che se colpisce un'unità che non abbia le keyword titanico e fly che saranno immuni quindi a questo stratagemma allora fino all'inizio della propria successiva fase di movimento si dimezzerà il valore di movimento come caratteristica per i modelli nell'unità bersaglio e si sottrerà due alla carica e ai tiri per correre per quanto riguarda quell'unità quindi si rallenterà l'unità in questione questo diventa particolarmente utile o per rallentare eventuali cariche l'unità nemica o per impedirle di raggiungere certi obiettivi quindi diventa molto interessante e veramente strategico come opzione ovviamente dovete avere un thunder cannon in lista però è veramente ottimo come stratagemma e poi abbiamo shock and heavy che per un command point permette di usare questo stratagemma nella fase di tiro quando si ha un'unità con la keyword adeptus a startes shock grenades o un'unità con la keyword land raid storm che sia della propria armata e debba sparare e si seleziona quindi un'unità nemica che sia entro sei pollici da suddetta unità e fino all'inizio del proprio turno successivo ecco che l'unità selezionata non può sparare di overwatch o set to defend e inoltre che ciascuna volta un modello dell'unità selezionata cerca di fare un attacco si sottrae uno ai tiri per colpire di quelli attacchi quindi decisamente buono il problema è che questa unità di speed storm o con la teptus a startes shock grenades devono essere entro sei pollici dall'unità che si va a usare contro questo stratagemma quindi molto vicino però può essere interessante se si ha un'altra unità che deve poi assaltarla perché in quel caso lì allora si esce a creare una buona combinazione quindi sinceramente da tenere in considerazione e poi abbiamo assalt launch che per un command point permette di usare questo stratagemma all'inizio della fase di carica selezionare un'unità con la keyword adeptus a start assault launchers della propria armata e un'unità nemica che non sia veicolo o mostro entro 9 pollici dall'unità selezionata ecco che l'unità nemica potrà decidere o di resistere o di buttarsi in cover se decide di resistere soffrirà di tre ferite mortali se si butta in cover ecco che fino alla fine del turno soffrirà un 1 come penalità ai valori della caratteristica di attacchi dei modelli in quell'unità e non potrà né fare overwatch né set to defend il che vuol dire che o decide di prendersi ferite mortali o decide di non provare a resistere color alassi carichi quindi è veramente molto interessante come combinazione tra usare questo e poi andare in assalto e poi abbiamo bombe termiche che per un command point permette usare questo stratagemma nella fase di combattimento quando un'unità di adeptus astartes bombe termiche meltabomb quindi unità come quella tattica e quella d'assalto nella propria armata sono selezionate per combattere si può selezionare un modello in quell'unità e quel modello può effettuare un unico attacco in quella fase e deve assagliare un modello nemico quindi funziona solo contro veicoli nemici con quell'attacco e se colpisce l'unità nemica soffrirà due di tre ferite mortali da parte di quell'attacco e la sequenza termica quindi non si deve tirare per ferire e si fanno direttamente ferite mortali quindi ottimo bisogna colpire quindi bisogna fare in modo che quell'attacco colpisca è limitato perché va solo contro i veicoli e soltanto per determinate unità però molto interessante e poi abbiamo impulso di cavità che per un command point fa fare praticamente quello che erano prima regole del ripulso tant'è che nella propria fase di movimento quando un'unità con la keyword adeptus astartes repulsor field della propria armata fa un movimento di ritirata fino alla fine del turno l'unità può ancora sparare dopo aver fatto un momento di ritirata inizia precedente semplicemente dato che aveva la regola volare poteva ritirarsi e comunque sparare adesso serve lo stratagemma per poterlo fare inoltre nella fase di carica del nemico quando un'unità adeptus astartes repulsor field della propria armata è sezionata come bersaglio di una carica ecco che fino alla fine della fase si sottrae due alla carica di tutti i tiri effettuati per la carica da unità che dichiarano appunto una carica contro quella specifica unità con la keyword repulsor field quindi questa è una regola che ha di tutti il pulso adesso invece richiede lo stratagemma e poi abbiamo è il fire shells che costa un command point e permette usare questo stratagemma nella propria fase di tiro quando un'unità di fanteria infantry adeptus astartes della propria armata spara con un heebolter e storm heebolter o rune executor heebolter in quell'ora caso si può fare un unico attacco con quell'arma in questa fase ma se si colpisce si effettua direttamente un ammontare di d3 ferite mortali e non si deve tirare per ferire quindi basta colpire e si fanno di tre ferite mortali qualora il colpo sia fatto contro un'unità con la keyword mostro qu'un unità soffrirà tre ferite mortali invece di d3 ferite mortali quindi dipende un po' da quello che si va a fare il vantaggio è che non si deve ferire basta colpire con un colpo solo che può mancare ricordiamo però se colpisce si fanno di 3 ferite mortali 3 contro il mostro e poi abbiamo frac missi che per un command point permette nella fase di tiro quando un modello fanteria infantry dell'adeptus astartes decide di bersagliare con un lancio missili un modello con la keyword aircraft aeromobile ecco che può fare un unico attacco con quell'arma per questa fase ma aggiunge 1 ai tiro per colpire quindi è più facile colpire l'aeromobile e qualora colpisca ecco che il bersaglio soffre 2 di 3 ferite mortali e quindi senza dover ferire basta colpire bisogna colpire però non è male anche perché si passa da poter fare 2 a 6 ferite mortali e l'aeromobile quindi qualora non si abbia particolari armi per andare contro agli aeromobili questo può essere un sistema per avere qualcosa che tampona quindi non male decisamente questo diciamo che dipende un po da come si fa alla lista ma può essere estremamente utile e poi abbiamo smoke screen che per un command point permette di usare questo stratagemma nella fase di tiro dell'avversario e quando un modello della propria unità con la keyword adeptus astartes smoke screen è selezionato come avversario di un attacco fino alla fine della fase ogni qualvolta un attacco effettuato contro questa unità si sottrae 1 ai tiri per colpire di quegli attacchi quindi praticamente ai vecchi fumogeni semplicemente ora si può usare praticamente solo uno per volta quindi solo un modello veicolo della propria armata potrà beneficiarne è anche un vantaggio però che non ha penalità quindi non è che per attivarli si rinuncia a tirare o altro quindi sicuramente almeno in quel senso è estremamente utile quindi possiamo vedere che abbiamo molti stratagemmi a disposizione e altri ne verranno fuori quando vengono rilasciati i supplementi perché ogni supplemento avrà anche ulteriori stratagemmi che saranno legati al proprio capitolo quindi sarà veramente molto interessante ricordate che questi stratagemmi servono a fare in modo di completare o valorizzare alcuni pezzi della armata tenete conto di quali vi serviranno quando fate la lista stessa perché ovviamente se non avete un thunder cannon ovviamente lo stratagemmi che riguarda i thunder cannon non vi interessa però se avete un'unità che magari ha uno stratagemmi a disposizione segnatevelo e tenete in mente che lo avete perché potrebbe essere un qualcosa che cambia il vostro apposso alla partita magari dandovi delle opzioni che altrimenti non avreste quindi tenete conto anche dei stratagemmi quando andate a creare quella che la sinergia della vostra armata ad ogni modo da denomod per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da denomod è tutto alla prossima